Se vuoi ti prenoto e ti faccio dormire lì e ti faccio mangiare lì gratis Ci siamo presentati a casa di Dada Vogliosi di riposo Dada sull'uscio di casa sua dice Vi porto a vedere una cosa E questo stronzo ci porta su un greppo di questa pendenza Dopo 5 minuti stavamo scalando un cazzo di monte Ma porca puttana stavo morendo Io stavo morendo, avevo il cuore in gola, mi stava scoppiando Dio madonna tutto E madonne piantate di obonno nella roccia E poi siamo andati a Gubbio Domani andiamo a vedere la capitale del medioevo C'era il bar di Don Matteo E arriva una e mi fa Le hanno detto che lei è una persona famosa Guardi, faccio il buffone su internet La ringraziamo di aver scelto il nostro bar per consumare la sua beranda Va bene, grazie a lei Questa la offriamo noi Ma la prego, non si dimentichi di parlare di noi NIE, O, BIS... Come il pittore traccia cerchi perfetti Lui è Giotto, il pulotto NIE, O, BIS... NIE, O, BIS...